Una proposta di legge per prorogare la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato delle aziende del sistema sanitario regionale, elenchi che in assenza di un provvedimento ad hoc decadranno il 30 settembre, la presentata in Consiglio regionale del Parito dei Sardi. Se non si interverrà per tempo, le legittime aspettative degli idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato nel sistema sanitario regionale sono destinate a essere definitivamente sacrificate con l'imminente scadenza delle graduatorie prorogata dalla legge di stabilità 2018 al 30 settembre e spiega in una nota il consigliere Roberto Desini, primo firmatario della proposta di legge. Già lo scorso anno presentammo una proposta simile che è stata completamente ignorata dal Consiglio regionale e dall'Aggiunta a Piglieru. Dall'assessore alla sanità Luigi Arru ci saremmo aspettati una maggiore attenzione e sensibilità ma riguardo a questo argomento dal quale dipende se il futuro professionale e umano di tanti professionisti che hanno superato i regolari concorsi sia la qualità dell'offerta sanitaria e la salubrità dei bilanci dell'intero sistema, l'assessore non ha trovato il tempo di spendere una sola parola continua Desini. Per questo abbiamo deciso di presentare una nuova proposta di legge che si è approvata allineerebbe il sistema sanitario regionale agli scenari nazionali stabiliti con l'entrata in vigore dalla legge del 27 dicembre 2017, la numero 205, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriannale per il triennio 2018-2020. Questa norma all'articolo 1,1148 ha disposto alla proroga dell'efficacia delle gradatori dei concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato dal 31 dicembre 2018. La proposta di legge presentata dal Partito dei Sardi conclude la nota agisce anche in prospettiva di contenimento e risanamento dalla spesa pubblica regionale sulla quale a finora è ingiustificatamente inciso in modo rilevante il frequente ricorso a forme contrattuali flessibili e in particolare alla somministrazione di lavoro interinale.